Se c'è una cosa che dovresti aspettarti di trovare quando ti guardi intorno nell'universo è spazio vuoto, giusto? Cioè, sì, ci sono stelle, ci sono nebulose, però ti aspetti anche un sacco di spazio vuoto. Ed è quindi molto divertente che uno dei più grandi misteri che abbiamo nella nostra Via Lattea riguardi uno spazio vuoto. È divertente perché non abbiamo idea di come mai c'è, e quindi pensavamo che non fosse vuoto fino a quando non abbiamo scoperto che in realtà è davvero vuoto, ma è strano perché uno è a forma di cuore e poi è nel bel mezzo di una nebulosa. E non abbiamo idea di come si sia formato. Quindi oggi vi racconto di uno spazio vuoto a forma di cuore, che in un certo senso credo sia molto poetico. Mi dispiace per quelli di voi che hanno uno spazio vuoto enorme al posto del cuore. Lo so che queste cose toccano sul vivo, ma dobbiamo parlarne. Abbiamo bisogno per stare veglio di parlare di quello gigantesco spazio vuoto al centro della nostra nebulosa di Oriana. La regione di cui parliamo in codice è chiamata NGC 1999 e si trova a circa 1500 anni luce da noi nella nebulosa di Orione, che è la più grande vicina nebulosa che conosciamo. È una vasta regione di formazione stellare e ci sono tantissime giovani stelle nelle vicinanze. Questo, come vedremo, è molto importante, inclusa una stella variabile molto molto grande e molto luminosa che si trova proprio accanto al cuore. Come in tanti casi, i cuori che in realtà sono dei vasti spazi freddi e vuoti vicino hanno una stella brillante, solo che illumina tutto quanto intorno, salvo il cuore. Quindi in questo caso, giuro che non è fatto apposta avere tutti questi paragoni, è solo molto divertente. Quando poi dopo ci vivi dall'interno, quindi è divertente fare battute sul stato del proprio cuore. Da un'età, la stella in causa, di 1-3 milioni di anni, scusate, e quindi è molto molto giovane. È una stella molto massiccia, molto giovane, che sta illuminando, come una nebulosa riflessione, tutta la zona intorno. Ora, inizialmente, quando abbiamo scoperto che questa stella è la zona a forma di cuore, pensavamo che fondamentalmente fosse una zona di polvere così densa che la luce non passava da lì. Quindi non pensavamo che fosse letteralmente vuota, perché non aveva senso, quindi nessuno pensava che fosse uno spazio vuoto in mezzo a nulla, ma che fosse semplicemente polvere molto molto scura. Che non sarebbe così strano, perché in altre parti, in altre nebulose, troviamo molti di questi oggetti, conosciuti anche come nebulose di Bok, quindi sono piccoli oggetti molto molto densi, fatti di polvere. Di solito la polvere collassa verso l'interno e forma stelle. Se li guardi negli infranossi, molti di questi oggetti scuri in realtà si vedono illuminati dall'interno di piccoli puntini di luce, che sono appunto le stelle che stanno nascendo al loro interno. E una stella in realtà binaria, si chiama V380 Orionis, che è formata da una stella di 2,9 volte la massa del Sole e 1,6 volte la massa del Sole, e forse intorno ci sono altre due piccole stelle, oppure una nana bruna e una piccola stella, ma su quelle siamo un po' incerti, almeno due grandi stelle ci sono. Quindi questa è una stella binaria e variabile, molto giovane. Ora, parliamo di questo vuoto. Inizialmente, quando è stato scoperto, come dicevo, pensavamo fosse uno spazio di polvere densa. Quindi per riuscire a vedere attraverso, dovevamo guardare non in luce ottica, ma in infrarossi. L'Agenzia Spaziale Europea ha lanciato, all'inizio anni 2000, un progetto per costruire il più grande e potente telescopio a infrarossi che avevamo mai pensato. Un telescopio più grande di Hubble, ma specializzato appunto solo nei infrarossi. Si chiamava Herschel, è stato lanciato con successo, e tadam, nel 2009 l'abbiamo puntato verso questa regione per vedere cosa si nasconde dentro questa nube di densa di gas e polvere, e abbiamo visto che non c'era niente. Non c'era, lo spettro era identico a tutto il resto e quindi abbiamo pensato ok, allora è molto più denso di quello che pensavamo. Oppure semplicemente c'è qualcosa di grosso che ci stiamo perdendo. Poi abbiamo guardato con altre lunghezze d'onda, specialmente microonde. Quindi onde radio che dovrebbero passare attraverso qualsiasi gas e quindi dovremmo vedere dall'altra parte se ci fosse del gas. E alcune di queste lunghezze d'onda invece dovrebbero essere assorbite dal gas. Quindi in base a quello che succede con le varie lunghezze d'onda potremmo ipotizzare meglio se c'è del gas o no. E quindi abbiamo usato vari telescopi tipo Apex e Magellan per osservare questa nebulosa sempre nel 2009 e abbiamo scoperto che appunto non c'è niente, non c'è letteralmente niente. Quello che vedete, quello spazio nero, è vuoto. Si vede attraverso la nebulosa della parte opposta. Che è strano. Cioè non c'è. Normalmente questa cosa è un po' un unicum nella Via Lattea per quello che vediamo. Non ci sono tanti buchi simili, specialmente non così, in mezzo a nebulose così dense. Cioè magari può capitare ai margini delle nebulose, ma non in mezzo a una nebulosa che di su è molto densa come quella di Orione e quindi è affascinante perché si è formato. Beh, non abbiamo una spiegazione al momento. È un mistero. Ma ci sono alcune ipotesi su cui stiamo ragionando. Per esempio, visto che nelle vicinanze ci sono tante stelle molto giovani, sappiamo che le stelle giovani formano delle cose chiamate, spesso formano delle cose chiamate Herbing Harrow. Cioè quando nascono, rilasciano dei getti energetici molto intensi dal polo nord e dal polo sud e quei getti possono passare attraverso le nebulose letteralmente creando un buco. Quindi quando quei getti colpiscono il gas, l'accelerano, lo riscaldano tantissimo e gli danno abbastanza velocità per farlo andare via. E quindi un getto simile di una stella passata molto giovane poteva aver creato un buco in questa regione, poi piano piano quel buco si stava richiudendo e ora noi lo vediamo mentre si sta cambiando forma in base alla pressione di altre stelle nelle vicinanze ed è ancora aperto, però non c'è più la stella dall'altra parte, quindi non vediamo più il getto e quindi semplicemente è rimasto solo il buco creato. Sembra una spiegazione ottima, il problema è come lo testi. E quindi ancora è soltanto un'ipotesi work in progress, ma non abbiamo una vera e propria spiegazione totale di quello che è successo. Abbiamo però una foto splendida da parte del telescopio Hubble, quello sì. Il telescopio è stato puntato in tutta questa regione, è riuscito a riprendere in dettaglio sia la nebulosa riflessione, che si chiama così perché riflette la luce delle stelle, in questo caso di V380 Orionis, e si ha anche appunto lo spazio vuoto intorno a forma di cuore o a forma di sedere, dipende da che punto lo guardate. E con questa immagine di sedere nello spazio, direi che possiamo salutarci, è stato bellissimo passare la mattinata con voi o poveriggio o sera, dipende da quanto guardate questi video, e vi strittura fortissimo, passate un resto della giornata a un'ottata meravigliosa, mangiatevi tante torte e tante verdure, e tante verdure a forma di torte e torte a forma di verdure. Chissà, quali sarebbero... Beh, verdure a forma di torte sarebbero divertenti, ma un po' impegnative forse dal punto di vista delle piante, anche se ci sono effettivamente delle verdure che un po' somigliano a dei dolci, suppongo. Qual è secondo voi la... Tipo, la zucca somiglia... Ma la zucca non so se vale come verdura, però somiglia un pochino... I pomodori potrebbero somigliare a dei pomboloni, forse? E sì, direi che con questo possiamo concludere. Vi abbraccio forte e continuate ad essere meravigliosi. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo video, ci sono un sacco di altri piccoli misteri così sparsi per la Via Lattea, quindi se vi piacciono potete raccontarvi qualcun altro. Noi ci vediamo presto per un altro video, sempre qui, alle 7 di mattina. E anche oggi siamo qui nella Endcard con qualche altra piccola informazione per voi che va ancora, volete astronomia? E vi racconto della nebulosa di Orione che è visibile a occhio nudo. Quindi se trovate una zona con cieli splendidi, scuri, senza disturbi, e aspettate per una mezz'oretta, e se avete una bella vista riuscite a intravedere nella parte centrale della costellazione di Orione, in basso potete intravedere una specie di piccolo riflesso di luce, come se fosse una zona un po' più nebulosa, appunto, e quella è appunto la nebulosa di Orione. È una delle poche che è visibile anche a occhi nudi. Se avete invece un binocolo si vede già molto meglio, e con un telescopio potete anche usare una fotocamera digitale, poi dopo per scattare delle immagini a lunga esposizione di questa nebulosa. È una delle zone più fotografate, più iconiche, ed è vastissima. Centinaia di anni luce da parte a parte. Quindi all'interno è pieno di altre piccole nebulose create da stelle che sono nate, hanno distrutto parte di quello che c'era intorno, altre che sono morte, eccetera, eccetera. È davvero una delle zone più belle da esplorare del cielo notturno, e potete passare nottate intere a guardare pezzo per pezzo cosa c'è all'interno di questa regione. Ma tutta la costellazione di Orione offre tante gioie e soddisfazioni, sia dal punto di vista delle emulose che delle stelle. Voi dove abitate? Com'è il vostro cielo? Cioè, riuscite a vedere qualche costellazione? Perché per esempio durante ora, durante l'inverno, dovreste riuscire a vedere abbastanza bene Orione nel cielo. Fatemi sapere se dalle vostre città si vede. Un abbraccio forte ancora, continuate ad essere persone meravigliose, e vi ricordo che se volete potete fare colazione insieme, ma anche con la stessa tazza, perché ci sono nello shop qui in descrizione, le tazze di Link4Universe di Astrocaffè. Così come ci sono anche le magliette ufficiali, no, non questa, ma ci sono le magliette ufficiali di Link4Universe, questa invece è una maglietta che trovate anche su Pampli, quindi potete andare lì e usare il codice ADRIANL4U, avere sconti e anche calzini offerti gratis per voi, e in cambio appunto sostenete il progetto e mi aiutate a crescere qui sul canale. Vi abbraccio forte, a presto, ciao!